Scrivere ai senatori, fare manifestazioni in piazza, partecipare a class action, partecipare ad azioni legate. Io non vaccino mai i miei figli, ho detto passare sul mio cadavere. Oggi sono qui per difendere la nostra libertà di scelta in campo vaccinale e libertà di cura anche. La libertà di scelta vaccinale per noi è una priorità assoluta, perché questo decreto legge è qualcosa di indegno, che calpesta tutti i nostri diritti, che calpesta la nostra Costituzione, che come ha confermato il Presidente Imposimato, è assolutamente incostituzionale, assolutamente contrario anche alle norme comunitarie e va assolutamente abbattuto. Noi non lo accetteremo mai, noi cittadini non lo accetteremo mai. Oggi siamo solo una piccola rappresentanza, ma ci siamo riversati nei giorni scorsi in migliaia nelle piazze italiane e non molleremo finché questa indegnità non verrà abbattuta. Sono qui oggi per dimostrare che bisogna avere la sicurezza di fare questi vaccini e la libertà di scegliere quali vaccini fare. In tutta sicurezza, avere informazioni vere, scientifiche e non aria fritta come abbiamo visto fino adesso. Questo decreto è in casenza!